La MAG, ente che si occupa di autogestione ed educazione cooperativa, sta sviluppando in questi anni una formazione sulla cura rivolta in particolare agli imprenditori sociali con alcuni incontri formativi. La cooperativa sociale MAG, mutua per l'autogestione, punta sulla cultura della cura per aiutare a pensare gli imprenditori sociali al di là di una logica del profitto. Tre incontri per riflettere sul proprio esistere prima del fare e dell'intraprendere. Il primo sul tema dell'alevatrice e della nascita, non solo fisica ma anche filosofica. Il secondo dedicato al manifesto della cura sulle orme di quello pubblicato nel 2017. C'è così bisogno della cura e soprattutto in una società che è governata dall'incuria, nel senso che è governata soltanto dal profitto, dall'input neoliberista, dalla suggestione della performatività. E quindi cura significa prendersi cura di sé, prima di tutto, di quello che si è capaci di fare, di vedere le proprie potenzialità e i propri limiti degli altri, come già diceva Loredana, intesi in senso lato dai più piccoli ai più grandi e al mondo e al territorio. Che questa sia una società fondata sull'incuria è emerso terribilmente, come fa notare che il collective che ha prodotto il manifesto della cura, soprattutto all'interno della pandemia di Covid-19 e dopo la pandemia, dove si è visto lo sfasciarsi, lo sfascio dei legami sociali di qualsiasi welfare e la necessità di portare la cura, intesa come prendersi cura di, fare attenzione a, tessere relazioni, come paradigma. La MAG scommette che ci sia il lavoro quotidiano di cura, di cura delle creature piccole, delle persone con disabilità, della terra, dell'ambiente, ma anche di chi si occupa dei conti. Ma questo agire, questo fare, non è sufficiente, secondo noi, se non è accompagnato anche da un pensiero. Quindi abbiamo deciso di invitare le persone che sono operative nelle imprese a sostare. Un imprenditore sociale dovrebbe, deve, ha bisogno di soffermarsi sulla cura, prima di tutto a partire da sé, dalla sua progettualità, da quello che vuole tentare, da quello che vuole dire, da quello che vuole mettere a essere. Se questo mettere a essere, questa sua progettualità è sostenibile con il suo progetto di vita. Ed il prossimo e ultimo incontro si terrà il venerdì 24 di novembre alle 16.30 alla MAG, proprio sul tema di come cercare lavoro oggi. Grazie. Grazie.